buonasera a tutti siamo qui con alessandro il titolare del ristorante la stella che anche quest'anno rinnova il contratto con la società con le ferro calcio riguarda la sponsorizzazione ti passo la maglia così la puoi vedere questa è la nuova maglia della stagione 2022 2023 appunto vediamo il tuo logo perché hai deciso di prorogare appunto il contratto con la squadra vabbè ho creduto nel progetto del colle ferro poi c'è il presidente coviello che è un grande amico poi anche con federico e poi è sempre un piacere fare lo sponsor per la squadra del mio paese dove sono nato cresciuto anch'io ho giocato a pallone quando ero bambino e quindi speriamo che quest'anno i risultati ci diano maggiore soddisfazione anche dopo la bella esperienza dello scorso anno e quindi ho deciso di rifarmi anche per questa per questa annata ok perfetto grazie ancora alessandro per l'intervista e ci vediamo durante la stagione